Giovani giornalisti green crescono e partecipano. È in fase di avvio infatti un nuovo bando Conai dal titolo Fenice Conai per il giornalismo ambientale giovane, dedicato ad appartenenti a questa professione che non abbiano ancora compiuto 41 anni. Il premio è previsto per un servizio radio televisivo e per un articolo con la sostenibilità ambientale, il riciclo e la transizione ecologica come denominatori comuni. In gara le produzioni realizzate tra il 22 aprile 2021 e il 21 aprile 2022, date a fatto casuali cadendo il 22 aprile la giornata mondiale della terra. Il premio, una Fenice a sette code che spiega le ali, simbolo di rinascita anche per gli imballaggi, ideata da Conai e progettata da un gruppo di studenti della scuola di design del Politecnico di Milano, sarà consegnata a Rimini per Ecomondo 2022, previsto dall'8 all'11 novembre. Sostenere con questo premio i giovani giornalisti dai 40 anni in giù, ha spiegato il presidente di Conai Luca Ruini, e valorizzare il lavoro nel settore dell'informazione legato all'economia circolare è un'attività molto vicina ai nostri compiti istituzionali. Tempo di iscriversi sino a fine maggio. Allungata ancora la sospensione dell'obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi, la cui proroga arriva ora, come attesta la legge del 25 febbraio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale tre giorni dopo, sino al 31 dicembre 2022. Sempre secondo il provvedimento, è possibile commercializzare le scorte dei prodotti già messi in commercio o etichettati entro il 1 gennaio 2023. È stato infine previsto il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, entro il quale il Ministero della Transizione Ecologica adotterà le linee guida tecniche per l'etichettatura ambientale, mediante un decreto di natura non regolamentare. Grazie.